ciao a tutti ragazzi rieccoci qui per un'ennesima degustazione di prodotto proteico questa me l'ha gentilmente concessa mio fratello e mi ha detto provola per fare una delle tue degustazioni praticamente questa che adesso vi avvicinerò per vedere meglio questa qui è una barretta proteica della tsunami nutrition che si chiama appunto isolate pure bar barretta proteica con proteine isolate 20 grammi di proteine per un totale di 50 grammi di barretta sugar free gluten free evidenziato adatto ai vegetariani in carto raccolta differenziata come dico sempre prima salendo ha raccolto un po di rifiuti che qualcuno ha lasciato in giro comunque per 50 grammi i valori nutrizionali 50 grammi appunto diciamo i valori nutrizionali di questa barretta 187 calorie 20 grammi di proteine come abbiamo detto i carboidrati 3 grammi 43 grassi 8,55 di cui saturi 1,6 fibra 10,5 veramente ricchissima sale trascurabile 0,025 purtroppo il costo di questa barretta è il loro punto dolente infatti ripeto mio fratello è stato gentile a regalarmela andiamo a degustare aspettiamo aspettiamo il gusto il gusto il gusto il gusto intense chocolate il colore infatti conferma di tutto guardate che nero intenso diamo in tasca per portare a casa quindi andiamo ad assaggiare veramente morbidissima questo qua devo dire è veramente a prova di dentiera buonissimo anche il cioccolato a rivestire la parte più interna l'ultimo boccone è un po abbondante però nel mentre sto elaborando l'ultimo boccone iniziamo a tirare un po le somme dunque barretta di per sé ottima non impasta troppo le bocca ho necessitato di bere un sorso d'acqua ma la differenza di altre non c'è paragone lo strato esterno composto da cioccolato fondente veramente squisito morbido ripeto il cuore all'interno della barretta molto molto buono quindi fruttazioni finali sul costo non riesco a pronunciarmi perché non ho chiesto a mio fratello quanto le abbia pagate e penso di non voler saperlo il gusto potrei dare tra un 8 e un 8 e mese perché è veramente una delle migliori che abbia mai provato anche ripeto il fatto della pastosità non non ha stancato non mi ha sfasciato le mascella forse di masticare non è stata una rivelazione perché immaginavo fosse buona così i ragazzi 20 grammi di proteine facili da ingerire potrei consigliarvela però attenzione al prezzo cercate l'offerta giusta per voi e qui dal monte corgnon di lusiana è tutto per questa degustazione e io vi rimando alla prossima